di queste informazioni e di queste notizie, non si poteva rimanere in silenzio, non si poteva permettere a chi ha messo qui quest'albero di dire che questa città è una meraviglia, questa città invece soffre. Le città hanno lavorato, sanno cos'è il lavoro vero, la fatica per arrivare alla fine del mese. La crisi sociale, queste amiche si è aggravata dalla pandemia, è una crisi dovuta anche alla guerra che non può essere sfrattata da una famiglia, nel senso che se non c'è niente di ufficiale, siamo originari che affamano questa città con affitti impossibili, con mutui impossibili, secondo loro sono quelli che vanno difesi, vergogna, vergognatevi! ...di ordine pubblico e sbarchiamo la porta, per denesima volta ai privati e agli speculatori, avanti questo piano lo chiediamo a gran voce, al sindaco quartieri, ma soprattutto se lo vogliamo prendere con tutte le forze che abbiamo in corpo! Fascisti contro la repressione della polizia, contro un sistema che decide di investire in armi, invece che per calmierare le bollette o per fare spesa sociale! Salute, salute, reddito, casa popolare! Stiamo attaccando delle bollette, non pagate, di Arena, di Lacea, di Enel! Salute, reddito, casa popolare! Cosa vogliamo? E' il Natale! Salute, reddito, casa popolare! Sooo!